A Bruxelles oggi con il progetto Life Ada per raccontare l'ultimo anno di lavoro di Lega Ambiente nella campionatura di una trentina di aziende della regione Emilia Romagna per capire quelli che sono stati gli effetti dei cambiamenti climatici sulle produzioni aziendali comprendere le azioni di mitigazione che esse hanno messo in atto e anche quelli che sono stati gli effetti sulla biodiversità agronomica delle aziende Tutti questi dati verranno raccolti e incrociati insieme ai dati di ARPA e di CREA per riuscire a fornire in futuro tutte le informazioni che gli agricoltori avranno bisogno per andare a programmare le loro culture, i loro interventi e scegliere quella che sarà la migliore misura di mitigazione contro quelli che sono gli effetti climatici e i rischi adesso connessi